Buongiorno, secondo giorno di tour qui in Giappone le destinazioni di oggi sono Meiji Jingu, che è già qui alle mie spalle Arajuku, che è il quartiere dove si trova il Meiji Jingu e Shibuya Pronti? Andiamo! Grazie a tutti! Meiji Jingu è un tempio shintoista e in questo momento è anche ancora sotto ristrutturazione, ma lo stesso vale una visita perché è molto molto bello e l'atmosfera surreale che si vive qui in questa foresta in mezzo alla città di Tokyo è veramente unica. Grazie a tutti! Grazie a tutti! In questo momento ci troviamo nella Takeshita Street, la sovraffollata e claustrofobica via evidentemente più famosa del quartiere. piccola nota informativa, essere più alti della media non serve a una mazza con una polla così compatta. Ah, c'è la gente che sta in fila dall'altro lato della strada col poliziotto, agente, quello che è, che li accompagna ogni tanto così che non stiano in fila sulla strada e occupino la carreggiata. Allora, anche a Harajuku vale la regola d'oro che le viette laterali sono quelle che nascondono i tesori e qua ci sono dei negozi, come dire, cosa nascondono? Cosa nascondono? Nascondono le cose molto swag. Lo swag! Il swag è violento, sono tipo i negozi dell'usato, dei vestiti usati con queste cose trascissime, inguardabili, molto fighe e siamo nel mezzo di un incrocio, quindi magari ci spostiamo da qua. Quindi quando venite ad Harajuku assolutamente prendete la prima vietta laterale che trovate e swag a manetta. Tuffatevi nello swag! Girando un po' a caso per Harajuku ho notato sulla mappa la presenza di un tempio chiamato Togujinga e dopo aver un po' gironzolato perché non avevamo trovato l'ingresso al primo colpo siamo riusciti ad entrare, quindi eccolo qua! Visto che siamo in questo tempio un po' più piccolo, un po' più calmo, Nicolò e Dio abbiamo approfittato per prenderci il quadernino dove si possono far lasciare i timbri nei vari templi che si visitano con una piccola offerta. In questo caso il quadernino con il timbro ci è costato 1800 yen, i quadernini in genere vanno dai 1000 ai 1500 yen più appunto l'offerta che si lascia ai vari templi. Sono molto belli quindi se avete la possibilità io vi consiglio assolutamente di farli perché è un gran bel ricordo da portarsi indietro dal Giappone. Noi adesso abbiamo saltato un po' i tempi che abbiamo visitato finora perché non abbiamo avuto tempo appunto di fare il quadernino, speriamo di recuperarli in questi giorni o magari chissà nel prossimo viaggio in Giappone. Gyoza Fritti Onti del Chiosco dei Vecchietti da 350 yen approvati! Adesso però dobbiamo fare una corsa perché siamo tardi e il buon Marco Togni se una parte senza di noi ci lascia qua. Dopo una quindicina di minuti di camminata attraverso un particolare quartiere di case basse e negozietti molto alternativi, molto particolari anche a livello di edifici proprio, siamo arrivati a Shibuya! a Shibuya! A Shibuya! Grazie a tutti. 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 Nonostante il primo impatto effettivamente un po' forte non è poi così terribile. Comunque alla fine sono riuscito a incontrarmi con Flavio. Mi ha portato a mangiare un ottimo curry alla giapponese. Quindi non mi resta che concludere qui questa giornata e darvi appuntamento al prossimo video. Vai. Non ci credo. Gianluca ha trovato il suo socio. Tu bella, io al safari. Ma come?